Sì 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 Non lo so Non lo so Sentite Fabio ragazzi sentite Fabio sì o no? Allora 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 Come si fa a linkare la streaming? Mi linki? Oh linkami un attimo su Sulla chat di Facebook La mia streaming Il link questo qua c'è il video? Sì sì il link del video sì Della streaming semplice Alza il volumen del video sì il link basso Capito? Alza il volumen del suo PS Vai Vai Ma rotta il cazzo Fabio No Vai si stream Ciao Grazie Ma che ti faccio fare le cose di dire Ma che ti faccio fare le cose di dire Ma che ti faccio le cose di dire Porca cazzo Vediamo di uno paccazzo Aspetta Ma rotter cazzo Fabio Ma rotter cazzo Via Ma speriamo via Allora mettiamo Il contratto E ora Si va Oh Oh Mario Ma rotter cazzo Io inizio Fabio Mario Ma rotter cazzo Gorilla si sta incazzando tipo È mezz'ora Che Che Joe Vai Tutto a fronte ragazzi Mi sa di no Mi sa di no Comunque piano ti sentono Vai Porca puttana Mamma mia squadra Oddia C'ha la squadra Oddio madonna Ah Croivamente Ah Ah Qui Non funziona Vicepresidente Sì Molto Lo Grazie Porca puttana Porca zozo Un tiro un gol Porca puttana Ok Porca puttana E no Non lagare E non lagare E vabbè Madone No lagare No lagare E non lagare E non lagare Grazie. E' un'occasione davanti ai portieri, davanti è veramente forte. Grazie. 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 Non è fuori gioco, va bene. Devastato. I love it. la fase defensiva è scambalosa la fase defensiva è scambalosa 4 a 1 e vabbè peccato vabbè ho difeso male io quindi il problema è scambalosa e vabbè no vai cazzo dai porca puttana sto difendendo male qui il problema quindi E vabbè Ha utilizzato Guardatevi Lo speed boost Coronado Infirmabile Poizoti Ovviamente Madonna quando fa Questi cazzo di cose Può fa sempre le stesse cose Oh sempre Si raccente sempre Quella tazzo di finta Ma lo fa Lo stretto Troppo breve Non riesco Ma che cazzo fa Fa troppo breve Sempre si sta finta Si raccenta sempre Si raccenta Sto bastardo Ma rotta il cazzo Però devi fare sempre Cosa da prezzo Sul primo palo Fa sempre Stessa cosa Sempre Però sembra Robin Come è Robin Fa così bene Che è veramente difficile E vabbè Questo firo Devità Lasciamo stare E vabbè E vabbè E vabbè Vedete che Mo' pare anche Impossibile Che fallo Viaggia troppo Mi ha messi fuori Porca puttana Mo' fa il gol Da 50 metri Vada là E vabbè E vabbè E vabbè Ah Ma l'affancio Ecco ora i contropiedi Stefano comunque dovrebbero entrare Ecco Ecco E vabbè Un altro 6 a 2 E vabbè Ci sta come risultato E vabbè Finish Niente via ragazzi Il senso si sapeva Era nettamente più forte Quello è un po' ma assicuro Forse giocarsela Avete un attimo il modulo c'ha lui Ecco giocarsela pari Con lo stesso modulo Ho sbagliato Perché fu molto probabilmente Dovevo utilizzare il 4-2-3-1 Che è un modulo sicuramente più difensivo E meglio Contro questo modulo E Poi sicuramente c'ha dei giocatori Che Che vanno Cioè sicuramente c'ha Il centrocampo Sicuramente lui Fa la differenza Centrocampo Con quel via E Gullit C'ha quello stesso breve Con quel cazzo di Ronaldo E Messi Continuo Cioè lui fa sempre la stessa finta Si porta verso l'esterno Poi si riacceda Attraverso la finta del cazzo E poi R1-X 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 E gol di prima Tutto di prima Lo fa Lo fa molto veloce Ed è molto bravo per questo Però boh Ho provato a cadere Un attimo di accettare questa finta Però ma tanto Fa sempre quella Però Lo fa veramente molto bene Quindi Niente Complimento a lui Una cosa Che non mi ha convinto del tutto Sì Il momento Ripeto Il modulo L'ho utilizzato È sbagliato Giovanni alla pari Con un top Forse il migliore giocatore di FIFA In questo momento In questo momento no Perché Tass Ha dimostrato Che può dire la sua In ambito Europeo E tutto Però Gorilla L'anno scorso Ha avvento praticamente tutto Suggi infiniti E quindi È niente È forte Appunto Mi piacerebbe utilizzare Boh Perché Desailly È Perché l'ho ottenuto Fino a Una settimana fa Desailly Ed è Molto veloce Però è bassino Vediamo attimo Vediamo le azioni Perché Desailly È molto veloce In Cioè In istituti Brevi Ma anche un po' dopo In progressione È tutto Andiamo a vedere Gol Perché poi alla fine Sono queste le leggerezze Da capire Qui buco Difensivo Incredibile Non so perché Andiamo a rivedere Cosa fa In questo momento Mi smolto in mente Vedi anche Tass Utilizza Per difendere I centrocampisti In questo caso Sto utilizzando sempre I difensori In questo caso Io guarda Per Un attimo Difendere Cercare un attimo Di 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 Suarez Che Si Che sta Inserendo In quel momento Io utilizzo Sempre Blanche E qua Temporeggio Con L2 Con L2 R2 Qui qua E dopo Vado su Gullit Nel stesso momento Però Blanche È in una posizione Sbagliata Veramente Sotto Sbagliata O non Questo È Veramente Fostidioso È in una posizione Sbagliata E Praticamente Mancava il Difensore Centrale Guardate Mancava il Difensore Centrale Qui Gullit Suarez Davanti Del Portiere Non Può Sbagliare E qui Il Primo Errore Andiamo a Vedere Il Secondo Gol Quanto Ormai Siamo A una Lezione Di Vedere Gli Errori Perché Tanto Sono Queste Le partite Da Vedere Perché Poi Giocare Con Gli Scarsi E Tutto È Un Conto Giocare Con Questi Bisogna Per Gli Errori Allora Vediamo Un attimo Qui Qui C'è un Centroampo Altissimo Non so Perché Qui Pogba Addirittura Sale Non so Perché Addirittura Non lo sto Utilizzando In quel momento Pogba Qui Sbaglio Non so Perché Saga E C'è V Difensivi C'è Casemiro Dietro Vidal Addirittura E Cdc E Non so Perché Sia In quella Posizione Sicuramente Poi Vediamo Un attimo Qui Temporeggio Qui E Vedi Troppo Nella posizione Addirittura Guardate Sulla linea Di Ronaldo Addirittura Valencia E' Sulla linea Di Ronaldo Eppure Negli Diciamo Nelle istruzioni C'è rimane indietro Quindi Andiamo un attimo A vedere Come va a finire Va a finire Che ho Un duo Contro uno Qui poi Addirittura Non faccio Né quello Né quell'altro Addirittura Dovrei mettermi Tra Messi E Ronaldo Io Qui Non so Ho sbagliato Completamente Ho perso Il cervello Addirittura Non fa né quello Né quell'altro Addirittura Lascia proprio a vuoto Tutto E poi Messi Fa Un gol Normalissimo Davanti al portiere Semplice Semplice Quindi Nel senso Io ho lasciato L'uno contro uno Semplice Quindi niente Andiamo a vedere L'altro gol Allora Ok Qui è Messi Ok Andiamo a vedere Messi Qui Qui c'è Boateng Addirittura Va a vuoto L'errore E' questo qui Che io sto utilizzando troppo I difensori centrali E ho comunque la difesa Invece io dovrei utilizzare Dovrei utilizzare I centrocampisti Per difendere E I difensori In automatico Dovrebbero muoversi Attraverso il computer Questo è una cosa Che Non è facile Perché Perché ci vuole Se non si è abituato E' impossibile La fare Perché ci vuole anche Questo manualità E allenamento Però sicuramente Poi dopo la lunga E' molto meglio Questo ruolo Ancora devo capire Un po' meglio Questa situazione Però Su questo video Lo so Devo migliorare Comunque qui addirittura Cerco di intercettare Il passaggio Commessi Esatto Fabio Dovrei utilizzare Il 4231 L'ho detto all'inizio Il 4231 Ho due cdc E quindi Ho sbagliato Utilizzare il modulo Ho detto prima Ho sbagliato Utilizzare il 4 Il rombo stretto Già me la pari Con un rombo uguale Per esempio Wingsley 3-4 settimane fa Aveva utilizzato Il 4231 L'aveva contrastato Benissimo Perché Quello cdc Era veramente Una muraia cinese Io Ho sbagliato A confrontarmi Con un top player Con questo modulo In Italia Posso permettermelo Diciamo Contro Giocatori di questo livello Ancora non posso Permettere Quindi Niente Poi in Italia Nel senso Alla fine Più che in Italia Più che in Italia Alla fine Perché Non dico In Italia Ci siano Giocatori Top Forse Però Io intendo Giocatori Che hanno raggiunto Questo livello E In Italia Ci sono tantissimi Ottimi giocatori Però Non hanno Una fase Offensiva E difensiva A questo livello Quindi Con questi giocatori Devi chiudere Tutti Proprio Tutti Gli spazi Qui veramente Faccio una cosa Difensiva Orribile Addirittura Mamma mia Qui addirittura Va a vuoto L2R2 Dovete Poreggiare L2R2 E invece Sbaglio tutto E allora Vediamo un attimo L'altro gol Gullit Andiamo a vedere Qui Qui Ronaldo Qui a casa mia Comunque a me fa schifo Non ci dovrebbe essere Nella manca In questa formazione Qui fa una bella cosa Addirittura Fa una combo di skill Con Gullit Guarda Doppio a suola Fa una bella roba Qui Qui è tutta roba Di temporeggiare E di stare più attento Con i centrompisti Perché qui Sbaglia tutto Con i centrompisti Poi vi faccio Un bel gol Sbaglia lui A fare questo Pressing alto Così Random Però con il risultato In cui era Se poteva permettere Poteva fare Bissom Una prova Poi andiamo a vedere Un attimo Come va A finire Questa azione Questo è l'altro gol Qui faccio una bella azione Tutta molto veloce Bellina Qui vediamo un attimo L'errore Che fa lui Allora Qui riesco E lui va dritto Vedi qui Dovrebbe temporeggiare Il suo Il suo TD Dovrebbe temporeggiare Invece non temporeggio Quindi riesco Un attimo Con l'imbucata Poi Gullit Non segue Quindi dov'è L'altro difensore centrale Smalling Smalling Lì E va un attimo indietro E non segue Ronaldo E non fa Diciamo Non chiude La linea difensiva E quindi Su questo punto di vista Ok Poi Andiamo a vedere L'altro gol Di Lionel Messi E qui Utilizza lo speed boost Come si fa lo speed boost Si fa premendo L1 X Guardate Vediamo Se fa quello E dico io Io so Io so Diciamo un trucchetto Diciamo Si può così chiamare Che il boost Si fa con Suola E poi premi L1 E poi R2 Qui io non lo utilizzo Non so che trucchetto Abbia utilizzato Però dovrebbe essere Però non vedo Forse ha fatto prima L'ha fatto E qua non si può vedere Nel replay Quello di Premere L1 E poi premere R2 Subito Senza addirittura La suola Qui quindi Utilizza il turbo Si vede già Che Ronaldo Ha la velocità Superiore Agli altri Guardate Abbia proprio Prende il via A velocità normale Guardate qui Questo momento qui E' incredibile Quanto Ronaldo Abbia quella velocità Poi L1 del Messi Vedete Fa sempre questa finta Lui Fa sempre questa finta Guardate Questa finta qui R1 X Gol R1 X Gol Fa sempre questa finta Però lo fa veramente Tutto questo molto veloce Questo Ti va rendendo molto imprevedibile Molto bravo R1 X Veloce Infatti cercavo In qualche modo Anche di Intercettare Qui ora Blanc Io Credo Dopo questa partita Non dio di venderlo Perché L'ultima partita Mi stavo un attimo Vincendo Però Mi ha sbagliato Veramente tutto In questa partita Tutto Guardate qui Blanc Cerca di Andare a prendere Con il fisico L1 del Messi Che sicuramente E' buona Per prendere fisico Perché è basso E' agile E soprattutto E' minuto Però Quanto è agile Messi Finalmente Ha un'agilità Troppo superiore Gli altri Poi vabbè Qui Ronaldo Davanti al portiere A porta libera Fa gol Nulla Bella 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 O comunque Nel senso Alla fine Nel senso Alla fine Se si fa vedere Il risultato 6 a 2 Però come Tiri Più o meno Siamo lì Solo lui Sa Davanti al portiere Segnare E Veramente E ogni occasione Non sbaglia Io in molte Io in molte occasioni Sicuramente Lui davanti al portiere Cioè Una volta davanti al portiere Metti L'attaccante In modo Che riesca a segnare Più facilmente E quindi E quindi Ha la maggiore Probabilità Diciamo Di segnare Però Sicuramente In fatto Anche Di tiri Come ho fatto Devo migliare Nella fase Realizzativa Quello si Poi anche Con questo Soparlo Alla fine Si è fatto Uguale Più o meno Però Guardate Un attimo Nella percentuale Nella precisione I tiri 93% Lui 71% Io Poi 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 I tiri In porta Sono quelli Maggio a parte Sono andati Tutti in porta I tiri 14 su 10 10 su 14 Non è neanche Una bassa percentuale Però vabbè Niente ragazzi Qui Ci siamo Trovati al top Diciamo Di un giocatore di fifa Che ovviamente Ha un suo lavoro Io Almeno per ora Lo faccio come hobby Nonostante ciò Comunque Cerco di raggiungere Massi livelli Niente È stata una bella partita È interessante Portare Diciamo Questo tipo di 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 Vincere soldi Tutto Però è importante L'Italia Inizia un attimo A vedere Questo mondo Tutte queste partite Sì ho fatto la figura di merita In quelle parole Però è importante Far vedere Il mondo dell'e-sport In Italia Perché Secondo me è molto più interessante Vedere una partita così Che vedere Diversi youtuber Che giocano pubblica Così Tanto per Fare una challenge E roba del genere Qui siamo A livelli massimi E Vedete Curilla Utilizza Diciamo Tutti I meccanismi Alla perfezione Ehm Diciamo Non la perfezione Perché A questo punto Avrebbe vinto Anche Diciamo La La fase Diciamo Regionale Lì a Parigi Però sicuramente Ha raggiunto Diciamo Ormai Quasi il top Sicuramente Secondo me L'anno scorso Era ancora più forte Quest'anno ancora Deve dimostrare Tutto il suo valore Però Diciamo Già anche comunque È arrivato Nella stagione Uno Ehm Forse Più di una volta Primo Nell'erogiana online Forse Deve dimostrare Ancora qualcosa Nel Live Però Ovviamente Lì C'è stress C'è Ci sono diversi Fattori Che Diciamo Giovano il tutto Quindi Lì di un attimo Deve migliorare Però Nell'online Si è dimostrato E Tipo Poter lottare Con tutti Perché Se già ho questi livelli È È Un giocatore Formidabile Poi sicuramente La squadra Lo aiuta Perché Quello c'è da dire A parità di formazione Questo Lo aiuta Nel senso Un Google Lui si verrà Fanno Veramente La differenza Ho anche Un Messi Totti Che ha veramente Nello stretto Un'agilità tale Da andare Veramente Avere un dribbling Fenomenale Quello si Ma poi anche Essere agile E tutto Quindi Però questo Si è arrivato A questa Avere questa formazione Perché Attraverso anche Il Il Food Champions Ha avuto Diciamo I suoi frutti È arrivato Tutte le volte Mi è stato In una top 100 Poi sicuramente Anche all'inizio Lo hanno aiutato Ma perché Agli sponsor Ma perché Agli sponsor Agli sponsor Perché Ha vinto Ha dimostrato Ha dimostrato Di essere Un grandissimo Player Nell'ultimo Periodo Deve essere Addirittura Il migliore Guidato da molti Quindi nel senso Alla fine Se è arrivato A questo livello E anche A questa squadra Ci sono Tutti i motivi Quindi anche voi Che guardate Anche Uno youtuber Normalissimo Poi siamo Io Daniele Fabio O comunque Anche persone Non conoscete Perché non fanno Video su youtube Ma che sono Che fanno parte Del mondo dei competiti E hanno una squadra O perché Shop O comunque Nel senso di cui parlo Pubblica e competiti Se uno è forte Tutto Deve avere la squadra Forte Perché a questi livelli Conta Si può vedere Un gullit Un vero affano La differenza E attraverso Diciamo Comunque Che investono Per poi Per guadagnarci Un futuro Mentre poi Shop Nel senso Sì È una scelta Di vita Loro Nel senso Alla fine Loro lo fanno Per divertirsi Noi invece Per arrivare A questi livelli Io ritengo Sicuramente Io non sono niente Con i trovi Scioponi Nel senso E robe del genere Sicuramente Però Una scelta Di shoppare Su una malattia Competitiva È Giusta Per me Perché Sicuramente Una volta Che hai raggiunto Questi livelli Ti vuoi vincere Nel senso Perché l'unico obiettivo Non è Vincere Il primo E ti capita O comunque Guadagnare Diciamo Prendere la prima vittoria Non trovo uno forte E ci ha Li legge grazie Se vuoi fare strada Del mondo Del competitive E vuoi anche andare A vincere i milioni Perché alla fine Questi stavoli Veramente hanno messo Un montepreno Veramente molto alto Le squadra Conta 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 Comunque Mentre comunque Se gioi nel mondo Pubblico Spendi I soldi Ognuno Spende come vuole Ognuno Ognuno Diciamo Ha Un suo stipendio Ognuno Sotto Un budget Se li vuoi spendere Bene Se non li vuoi spendere Non è che buono Bene Bene Anche così Non fa differenza Se Per esempio C'è tipo 50.000 persone Che molto probabilmente Gioeranno Solo a FIFA E ci saranno Altre 50.000 persone Gioeranno A 30.000 giochi A questo punto Se Nel momento in cui Vai a giocare Anche solo Solo su un gioco Te puoi spendere Quei soldi Che andresti a spendere Per un altro gioco Comunque si Gorilla ha lasciato Y Quindi sicuramente Ha qualcosa sotto Se no Non lasciava Y E Y Ha preso Wingsley Che lui È molto forte Addirittura Vi guarda anche il video Di quando vinse E Quando vinse G-Infinite Vinse anche contro Gorilla In semifinale Due volte No Tre volte Mi sembra Eh sì Mi sembra No Due volte Ma comunque Due o tre volte Ci vinse Quattro settimane fa Quindi Wingsley Comunque È un ottimo Diciamo Non dico riserva Perché ormai Anche lui è arrivato A ottimi livelli Chiama la riserva Ormai È abbastanza soggettivo E diminutivo Nel suo Confronti E Sicuramente Però Gorilla Se gioca O mi sa giocare Per me È superiore Però sicuramente Gorilla Finché utilizza Il quattro Cioè il rombo stretto Quindi il quattro Uno due Uno due Quando va Quando si va a trovare Un giocatore Come per esempio Quincy Che utilizza un Quattro Due tre Uno Nel suo Confronti Ha difficoltà Soprattutto la fase Offensiva Perché il 4 Due tre Uno È molto Buono Per difendersi Non Per Per andare A Per andare Ad attaccare Però come si può vedere Anche da questa Partita Le occasioni Le ho avute Quindi Gorilla Secondo me È un campione In attacco Come lo ho visti Molti altri Però sicuramente Come lui Ce ne sono pochi A questi livelli Le dico Però sicuramente In fase difensiva Lascia 14 tiri In una partita Contro Un migliore In mondo Quindi Se tu Vuoi battere Gorilla Non puoi giocare Con il rombo stretto Non puoi giocare Allo Un oltre uno Con questo modulo Con il 4 2 3 1 Puoi mettere Veramente Se difendi Molto bene Sicuramente Non è che poi Il primo Che capita E si mette Questo modulo Di merda E riesca a vincere Però se uno Sa veramente Difendere Molto bene E sa Avere un ottimo Contropiede Sa andare molto bene Nel contropiede È molto buono Questo modulo E anche il 4 3 2 1 Sfrutta questa capacità Nel contropiede Il contropiede È utilizzato Soprattutto con questi due moduli Il 4 2 3 1 Con gli esterni Larghi E poi Il 4 3 2 1 Quindi niente Però sicuramente La fase difensiva La fai molto meglio Con il primo modulo Che ho citato Quindi niente Un guido Questa partita Questo video Anzi Questo video Questa live Ormai È stata realizzata Per capire un attimo Come Si gioca E come anche Analizzare Come uno ragiona In queste Dopo aver preso 6 gol Sicuramente Devo capire Dove ho sbagliato Dopo riprenderò Un attimo Riprenderò un attimo Tutta la live E me la rivederò Tutta la partita E sicuramente In fase difensiva In fase difensiva Ho da migliorare Tantissimo E anche in fase Offensiva Perché 14 tiri Non si fanno Con il primo Con il primo Non è il mondo Però sicuramente Non è top Quindi sicuramente In fase offensiva Deve capire Dove non è andato Sicuramente Lui Utilizza sempre La finta E utilizzando La finta È dentro L'area di rigore Quindi dentro L'area di rigore Se Un po' come ho deciso io Oggi Nel senso Alla fine Basta fare un tapin Un tocco semplice Ed è gol Come si può vedere Poi va bene O lui A Ronaldo Totti Suarez Totti Messi Totti Giocatore Veramente Che hanno tutti i 99 Di tiro Però Devo capire Devo capire Diverse cose Però Lui lo fa come lavoro Io lo fa come Ancora hobby Spero Posa diventare Una professione Se Se come Nel senso Anche Insa Ha già Il trapeso Nel mondo Da Roma Succederà Presto Anche a me Non mi posso Dire niente Però Sicuramente Ci sono Le Le prevenze Di fare bene Perché Se passi Da un Da un hobby A essere Poi anche Un lavoro Poi alla fine Ci sono Dei cambiamenti Anche In un attimo Capire Tutte Perché alla fine Se questo diventerà Un po' Alla fine Un lavoro E tutto Te Ogni partita Vai a analizzare Gli errori I gol Le cose Fatte bene Le cose Fatte male E quindi E quindi Sicuramente C'è da lavorare Perché Ovviamente Subire sei gol Sono pesanti Però sono anche Fiducioso Perché 14 firi Non si fanno A ripeto Poi Un momento Una partita Secondo me Alla fine Il risultato È anche Un po' Bugiardo Però Come ho difeso Tanto Bugiardo Non è Perché Poi alla fine Ha preso Due pali Se non sbaglio Però Anche il suo De Gea Le superate L'ha fatte Sicuramente E quindi Niente Ora non farò Altre partite Perché Voglio proprio Carriare Questo video Proprio In conge Proprio Basato Su questa Tipologia Che è molto Interessante Secondo me Perché Avrei potuto Portare Una Un semplice Video Regolando la partita Secondo me È molto più Noioso Già in streaming Può succedere Di tutto E poi vabbè In streaming Faccio schifo Ovviamente Addirittura Due live Che vi porto In La prima settimana Esco del primo turno Oggi Non ho streamato E Puta Caso Ho fatto Sono arrivato Al sesto round E poi vabbè Gorilla È questo Però sicuramente Sono fiducioso Io ho fatto Un'altra partita Con Gorilla Non è che ho fatto Precedentemente All'inizio di FIFA Ho già giocato Con Gorilla E ho perso 3 a 1 Lui era già Una squadra Con Best Ronaldo Suarez Io avevo Una squadra Con Bakambu Bakambu Poi Mi sembra Avevo Bakambu E pato Gioavo Un pato Bakambu E per 3 a 1 Quindi Nel senso Gli risultati Si possono fare Anche con questi Gionatori Poi mi sembra Abbastanza Altonque Alto E Abbastanza Anche un po' Falsi Il risultato Però vabbè Ci sta Non mi lamento Di quello Ho fatto E niente Sì Vedete Sotto Nei momenti Comunque Se avete Le domande Perché ormai Questa live È concentrata Su questo In attimo Le domande In attimo Le domande Che Che Arriva Allora Sì Lo so La mia Roma Anche per la Dinsa Poi Non sta Dando Al top Può centrare La connessione Anche La connessione È stato Una merda Pereira Masi Levalo Pereira No Pereira Il casino L'ha fatto Scusi Rudiger Che cazzo c'entra Rudiger l'ha fatto Nella partita da Roma L'ha fatto Casimiro E a me non piace Ma il giatore Invece A me piace Pereira Che a me serve un vera Mi serve vera Proprio vera Io non c'ho vera Però mi serve un giatore Simile alle sue statistiche E alle sue caratteristiche E il più vicino Il giatore si avvicina A più queste caratteristiche È lui Molti Refri Una persona Che fa 25 vittorie Può partecipare Sugli infiniti Tutti possono partecipare Sugli infiniti Chiunque Anche uno Che fa Una vittoria Tutti No Casimiro Casimiro Fa schifo Arancione Nero Tutto Fa veramente Cacare Casimiro No ragazzi A me non piace Proprio Macchinose Proprio zero Non fosse anche alto Non è neanche alto Anche basso 1,85 Mi sembra Non mi piace Per niente Scandaloso E vabbè Questa era la squadra Che stavo Utilizzando Però Blanche Devo un attimo Rivederlo Oggi ha fatto Veramente La partita Dello scandalo De che è Più forti di tutti Sono d'accordo Vabbè Ragazzi Via Vediamo le ultime domande Vabbè Via Via Vabbè Grande Lo strev Ci sta Vabbè Cosa c'è in italiano Ho fatto la vignetta Di morti italiane Tra un po' motivo Che faccia Allaggio Non so che Non so neanche Cosa intendi C'è La vignetta Boh Non l'ho vista Questa vignetta Non l'ho vista Vabbè ragazzi Via Ci vediamo Nella prossima live Di solito un like Oh raga Per questo video Voglio Più di 500 like Dai Io non li chiedo mai Sì In streaming Li chiedo Qualche volta Solo per aver nato Le tendenze Punto Poi nei video Mai Sto like E tutto Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Questo si Dai Niente Roma fa schifo Zero titoli Anche quest'anno Zero titoli Masini ha perso E niente Vabbè Via Ci vediamo Ci vediamo Bye bye Ciao 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 Ciao